L'anno accademico della scuola Coradini si apre nella biblioteca Cittadiarezzo con il concerto di uno dei più giovani talenti chitarristici italiani, la grossetana Carlotta D'Alia, che a soli 17 anni ha già vinto decine di concorsi a livello nazionale ed internazionale. L'evento, gratuito e aperto al pubblico, è in programma sabato 1 ottobre alle 17 nel chiostro della biblioteca. La giovane chitarrista classica proporrà un repertorio che spazia dal 600 al 900. Il programma prevederà due sonate di Domenico Scarlatti, una corrente di Bach tratta dalla sequinda suite francese per Clavicembalo, per passare poi appunto all'ottocento con Sor, un pezzo come il gran solo quindi che si ispira molto alla tradizione orchestrale del periodo, per poi affrontare i brani di Mario Castanovo tedesco come la sonata a Maggio Boccherini e il capriccio numero 18 dai Capricci di Goya. Il concerto rappresenta l'inizio della collaborazione tra Carlotta D'Alia e la scuola Coradini, che intende diventare un centro di alto perfezionamento chitarristico. Quest'anno abbiamo ampliato i corsi veramente da 0 a 90 anni, abbiamo introdotto il comparto Coradini Junior che è fatto appositamente per i bambini di fascia d'età dai 5 a 8 anni. L'idea è quella di riportare la musica nelle case di tutti, che non sia un qualcosa di elitario, ma sia veramente parte dell'educazione di ognuno dei nostri ragazzi. Siamo qui con Carlo a Taquina.